In questo video descriviamo l'utilizzo della CPAP con caschi intersurgical sia nella modalità con bretelle che nella modalità next. Questa è la strumentazione di cui abbiamo bisogno per la CPAP con casco e bretelle. Procedendo dalla destra alla sinistra dell'immagine rispettivamente dal paziente alla parete abbiamo bisogno di due bretelle per ancorare il casco al di sotto delle ascelle del paziente, una valvola PIP per la regolazione della PIP, un filtro antibatterico antivirale, il casco, un tubo corrugato per collegare il casco alla valvola Venturi a sua volta connessa ad un flussimetro. Per quanto riguarda invece la CPAP con casco e next l'ancoraggio del casco al paziente è assicurato dalla struttura circolare che viene richiusa attorno al collo del paziente e sulla quale viene inserito il casco. Non abbiamo quindi bisogno delle due bretelle viste poc'anzi. Le restanti componenti della strumentazione sono esattamente le stesse della CPAP con casco e bretelle. La valvola Venturi connessa da un lato al tubo corrugato e dall'altro al flussimetro è provvista di due connettori, un connettore A di colore blu e un connettore B di colore giallo per la regolazione rispettivamente del flusso al paziente e della frazione ispiratoria di ossigeno. Nei reparti non intensivi raccomandiamo l'utilizzo del solo connettore A di colore blu e di mantenere il connettore B di colore giallo chiuso. Raccomandiamo di fare attenzione a non far scorrere la cover trasparente del Venturimetro sul resto della struttura perché questo annullerà il funzionamento del Venturimetro fornendo al paziente un affiodo del 100% e potendo compromettere la pressurizzazione del casco. Le impostazioni che raccomandiamo consistono nell'utilizzo di 10 centimetri d'acqua di pip e 12 litri al minuto nel connettore A. In questo modo otterremo una frazione ispiratoria di ossigeno del 40% e un flusso al paziente di 70 litri al minuto. Vediamo ora come installare la C-Pub con casco sia nella modalità bretelle che nella modalità next. Inseriamo il filtro antibatterico antivirale sul versante ispiratorio del circuito e adesso colleghiamo la valvola PIP. Sul versante opposto colleghiamo il tubo corrugato, all'altra estremità dello stesso colleghiamo la valvola Venturi. Il connettore A della valvola Venturi verrà inserito quindi in un flussimetro. Imposteremo come anticipato un flusso di 12 litri al minuto e una PIP di 10 centimetri d'acqua. Vediamo ora come installare la C-Pub con casco e bretelle. Dopo il fissaggio delle bretelle nella posizione corretta sulla porzione anteriore della base del casco, il casco viene inserito e le bretelle vengono richiuse posteriormente passando al di sotto delle ascelle del paziente. Indifferentemente le bretelle possono essere fissate prima posteriormente e poi richiuse anteriormente. La PIP viene regolata a 10 centimetri d'acqua e il tubo corrugato precedentemente connesso alla valvola Venturi e al flussimetro viene collegato al casco. Il flusso a livello del flussimetro viene regolato a 12 litri al minuto. Dopo l'apertura del flusso, per consentire la pressurizzazione del sistema, la valvola antisoffocamento viene chiusa per qualche istante fino al gonfiaggio del casco. Si tratta di un meccanismo di sicurezza che consente al paziente di respirare alla pressione atmosferica in caso di improvvisa depressurizzazione del sistema. Alcuni modelli di casco per CPAP con bretelle sono provvisti di manometro per la misura della PIP. Vediamo ora come installare il casco per CPAP con sistema NEXT. Dopo la chiusura della struttura circolare attorno al collo del paziente viene inserito il casco, facendo attenzione che le due scritte front, presenti rispettivamente sulla superficie esterna della base del casco e della struttura circolare, vengono a coincidere anteriormente. Le linguette di plastica della cuffia alla base del casco vengono chiuse sulla superficie esterna della base stessa, queste sono presenti solo anteriormente, quindi le due coppie di linguette di plastica della struttura circolare vengono chiuse sulla base del casco sia posteriormente che anteriormente. Dopo l'inserimento del filtro antibatterico antivirale e della valvola PIP, che viene regolata a 10 cm d'acqua, viene collegato il tubo corrugato sul versante inspiratorio, precedentemente connesso al venturimetro e flussimetro a parete. Viene quindi gonfiata la cuffia alla base del casco. La cuffia deve risultare tesa ma non stretta, quindi non fastidiosa per il paziente. Il tubo di gonfiaggio viene clampato e può essere inserito in un apposito vano presente al di sotto della struttura circolare. Viene quindi riavvitata la valvola antisoffocamento. Si procede dunque alla sua temporanea chiusura per consentire la pressurizzazione del sistema. Si può controllare ancora una volta l'adeguatezza della pressione della cuffia. Il manometro presente sul versante ispiratorio consente di misurare la PIP raggiunta durante la ventilazione. Ribadiamo le impostazioni di funzionamento raccomandate. 10 cm d'acqua di PIP, 12 litri al minuto nel connettore A per ottenere una frazione ispiratoria di ossigeno del 40% e un flusso al paziente di 70 litri al minuto.